Cari amici followers, oggi 4 novembre 2015, giornata interessante. Dopo aver lottato tutto il giorno contro malanche e super assorbenti, siamo però quasi pronti per lanciare l'ultima fase, l'until death. Il discorso è piuttosto semplice. O il pianeta Terra, che mi ha esiliato qui, mi viene a prendere e allora possiamo discutere, o il pianeta Terra, che mi ha esiliato qui, mi lascia morire sul manicomio sacco, dopodiché ci sarà l'Armageddon. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.